Buona gelida serata, signori. Sono il dottor King Schultz. Sei un dottore? Dentista, nel vostro campionario ritengo sia presente un esemplare che ambirei acquistare. Come ti chiami? Giancola, in questo caso sei quello che sto cercando. Ehi, non è in vendita. Ah, beh, molto bene. Se fossi in te, andrei a prendere quel cappotto. Uccidi persone e ti danno un premio. Più cattivi sono, più alto hai il premio. Sto cercando i fratelli Bretton. So che facciano. Hanno renduto mia moglie. Non so a chi. Tu aiutami e... Ti darò la libertà e ti aiuterò a salvare tua moglie. Dove andiamo? Centro. Accomodatevi. C'è un combattimento in corso che è un vero spettacolo. Coco, dammi un confetto. Sei sul serio libero? Sì. Cioè tu vuoi vestirti così? Ma che dentista sei? Tocca la pistola e sei morto. Sì! Mi piace come muori. Signori, avevate la mia curiosità, ma ora avete la mia attenzione. Come ti chiami? Django. La tia è morta. A me! La tia è morta. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buono un piacere. Qual è il tuo piano, Tango? Liberare mia moglie? Con tutto ciò che è di mia proprietà, faccio quello che mi pare. Dove andiamo? È confermato che tua moglie è a Candyland. Non uscirete vivi da questa contea. È richiesta la supervisione di un adulto. Django Unchained.